Turismo e promozione del territorio. Fano mette il turbo. La città della fortuna avrà anche perso la partita per diventare la capitale italiana della cultura del 2022, ma l'esclusione dalla top 10 delle città papabili non pone di certo fine alle ambizioni dell'amministrazione fanese, perché nei giorni scorsi la Giunta ha gettato le basi per un'importante convenzione che unisce il Comune e niente meno che il Ministero per i beni culturali, il cosiddetto MIBACT. Tra gli obiettivi principali vi è anche quello di far diventare il Carnevale di Fano patrimonio immateriale dell'UNESCO. Fano siglerà un protocollo molto importante con il Ministero, con il dirigente del servizio tutela per il patrimonio immateriale e in realtà è anche direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, ente con cui verrà siglato questo protocollo. Il protocollo vuole innanzitutto fare in modo che questo percorso di valorizzazione del Carnevale come patrimonio immateriale dell'UNESCO possa avere una sostanza, si possa formare questa rete di carnevali italiani con un ente superiore che possa anche supportarci da questo punto di vista e quindi si possa arrivare all'obiettivo di far sì che il Carnevale diventi patrimonio immateriale UNESCO. Non solo maschere e coriandoli però, perché sono tante le carte che Fano può giocarsi. Tra queste ve ne è una in particolare che l'amministrazione intende mettere sul tavolo quanto prima. Si tratta di un'altra componente essenziale della tradizione fanese, la marineria. Nel protocollo è prevista la valorizzazione di tutte quelle arti, quei saperi che ha la città di Fano, come lo è la marineria, come il paesaggio, come lo sono le arti e i mestieri, insomma tutte quelle attività che possono emergere dai valori antropologici della città. Quindi avremo al nostro fianco il Ministero, avremo al nostro fianco dei professori dell'Università La Sapienza di Roma e con loro verrà realizzato un team per valorizzare tutto questo in funzione di una crescita turistica. Quindi dei progetti che, insomma, sempre più tendono a far crescere la città, tendono ad avvalorarne la sua cultura e ovviamente con essa anche il suo indotto turistico.